Era una ragazza non più lunga di una mano, elegantemente vestita con una foglia secca, che tendeva ad una leggera pinguetine. È così che descrisse per la prima volta James Matthew Barry nel suo racconto Trilly, la campanellino che tutti conosciamo con questo nome nel primo film d'animazione della Disney del 1953, dove si racconta appunto le avventure di Peter Pan, dove appare Campanellino. Trilly simboleggia la consapevolezza che si sta crescendo, ma allo stesso tempo che l'età è soggettiva e che ognuno ha l'età che si sente. Sempre Barry descrisse così per la prima volta Campanellino, con un carattere volubile che va dal bene incondizionato verso i suoi amici ad un odio incontrollabile verso Wendy per la gelosia che ha nei confronti della ragazza, molto vicina a Peter Pan. Queste oscillazioni dell'umore vengono spiegate nel romanzo a causa delle piccole dimensioni della fatina, perché, come spiegato, è troppo piccola per contenere due emozioni insieme, quindi o si va dall'amore incondizionato o dalla gelosia incontrollata. In più, le molte raffigurazioni viste durante gli anni tra cinema e serie tv hanno cambiato completamente il senso e i poteri che ha Campanellino. Il cui nome deriva dalla capacità del personaggio di riparare pentoli e pentoloni tolta a favore dell'uso della polvere magica. Ma quante volte abbiamo visto Campanellino trasposta in diversi prodotti che siano serie tv, film live action o film d'animazione? Beh, partiamo, come detto, nel primo film animato della casa di Topolino del 1953, dove c'è la prima apparizione di Campanellino, appunto, Otrilli, come la conosciamo meglio. Qui già vediamo un cambio sostanziale, a differenza del racconto di James Berry, ovvero la forma fisica di Campanellino viene cambiata in quanto la pinguedine, descritta dall'autore, è completamente tolta. Perché vediamo una Campanellino molto magra, mentre nel romanzo, nel racconto, è descritta come un po' in carne, leggermente cicciottella. Proseguiamo il nostro viaggio verso l'evoluzione di Campanellino nel 1991, quando una straordinaria Julia Roberts interpreta la trilli che tutti conosciamo nel film che vede Hook, Capitano Uncino e Robin Williams nei panni di Peter Pan. Devo dire che questa è una delle migliori trasposizioni della fata che accompagna l'avventura del magico Peter. Facciamo un balzo in avanti e lasciamo il 1991 e arriviamo al 2003, quando una splendida Ludovine Sagné interpreta la trilli nel film live action Peter Pan. Qui vediamo la stessa trilli alla quale siamo abituati, quindi con le stesse caratterizzazioni, sia fisiche che caratteriali. Qui troviamo la Campanellino che tutti conosciamo nel 2013, quando per la prima volta appare in una serie tv, ovvero Once Upon a Time. Qui, questa volta, è la McIver a dare vita ad una splendida Campanellino che cambia un po' la caratterizzazione del personaggio. In seguito alle trasposizioni in film e serie tv, torniamo alle origini con una serie di film d'animazione che vedono la protagonista Campanellino e raccontano le diverse avventure che la fatina dovrà affrontare insieme alle sue amiche, film che vanno dal 2008 al 2015, durante i quali i trilli dovrà affrontare diverse avventure. Infine, per concludere, troviamo nuovamente trilli in un film live action dedicato a Peter Pan dal titolo Peter Pan e Wendy che potete trovare su Disney+, uscito proprio ieri. Qui vediamo la fatina di Peter Pan interpretata da Yara Shahidi e molte sono state le polemiche per la scelta dell'attrice che in questo caso è un'attrice afroamericana, quindi dalla pelle scura, e in molti hanno alzato i forconi quanto è stato cambiato l'aspetto fisico tipico con cui abbiamo sempre conosciuto e visto la trilli in Peter Pan. Ragazzi, vediamo come sarà questa nuova trilli. Nel frattempo io vi invito a commentare e a dirci la vostra sotto il nostro video e fateci sapere poi cosa ne pensate e quale delle trilli rappresentate preferite. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di seguire i link in descrizione qui sotto ai nostri canali social di CiaccheAzione e cliccare sulla campanellina e mettere mi piace al canale. Grazie a tutti!